ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video siamo qua oggi per unboxare questi due bellissimi mazzi in anteprima dell'era dell'ascensione allora non so cosa ci sia dentro sono molto molto curioso quanto voi scusate se parlo come un magrebino ma mi è venuto così bene partiamo dal primo fuori dalle balle allora vediamo se non capace di aprirlo perché io di solito dei problemi con la plastica speriamo che sto giro allora aspettate allora è argentato e è grigio come cacchio si chiama sto qua ma si chiama malfoy Harry Potter Harry Porter burattinaio indolente no non è malfoy non non è malfoy malfoy al massimo era un burattino vedete io ho problemi fisici con questi mazzi allora pronto mi sento un ritardato pronto ok ho rotto qualcosa e adesso rompo tutto il resto alle pronti 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 veloci che sono curiosissimo allora intanto questa ve la cavo perché altrimenti mi sgamate il mazzo bam allora abbiamo un ombre martedì bene i martedì sono molto curioso molto molto curioso ma lo strisciante prendi il controllo di mente controllo vabbè questo l'avevamo già vista chiave dell'oscurità già vista maglio già vista truffa truffa alfa e omega puoi giocare questa carta solo come prima e dopo che hai giocato questa carta termina questo passo ed è un ruba 3 carina non troppo però è carina è molto buona alfa prima cosa da fare gioca infigilizzare una creatura nemica se quella è distrutta da questo effetto archivia il colpo tradimento 2 per ottimo anche se ti conviene averne uno per volta in mano ma vabbè ronni cinturolex perché ruba gli orologi nel tempo libero solo rolex solo rolex per l'amore di dio poi dice ruba 1 se il tuo avversario possiede 7 più invece ruba 2 molto buona sia situazionale che non perché poi vabbè è anche una creatura quindi una maniera per ritornarla in mano volendo si può trovare andiamo avvantissimo scarica nervina la conosciamo già nuggles bolton bolton bolt nuggles è il foladro illusione che basta illusione schermaglia ok se non servi non serve troppo però gamg gamg illusione raccolto se il tuo avversario possiede più emberdita ruba 1 ottima gamg è ottima sarebbe buono in combo con i logos che lo fa c'è la diventa vaffanculo le bad penny va bene due bad penny ancora sono sopportabili dai furia indotta xlix porca troia che fatica che farò combattimento infinito danni una creatura esposta da su un fianco della linea di battaglia del suo controllore può essere comodo sapete striscia tempesta che minchia è il nome più normale dei mart che puoi inventare però infligge solo un danno quando combatti dopo che una creatura nemica ha raccolto stordiscila cattivi questo è cattivissimo da tenerlo in campo anche perché se uno non è che lo seghi facile raccolto scegli una creatura infliggione vabbè questa già vista furta la chiave già vista raggio ipnotico ottieni il controllo di una creatura nemica cosa ma questa carta è overpower è sbagliatissima questa carta è sbagliatissima ma porca miseria così non è neanche epica normale saut classeia distruggi un artefatto una creatura e una miglioria ok ottima feromoni li conosciamo il canone madre lo conosciamo marte vuole è bellissima marte vuole marte vuole marte marte vuole marte ogni creatura non marte nemica danneggiata cattura uno dal suo lato bella bellissima questa veramente bellissima rivista una creatura marte amica fantastico molto ottimo agente umano umano l'avete capita umano fanculo stronzi illusione raccolto scegli una creatura non marte amica e una creatura non marte nemica stordisci le creatore scelta ottimo solo adesso mi sono accorto che voi non vedete un pene di niente due per non marte mi va beh comunque le carte nuove ve le dico scegli una creatura non marte amica una creatura non marte nemica stordisci va bene pandemonio lo conosciamo già gioco nel suo avversario aspettate che so che nel video verrà brutto che è popato fuori proprio così abbastanza ignorante scusate scusate dovrei tagliarla questa parte ma in questo caso non ci sarà editing così dovreste vedere vagamente almeno vagamente meglio spero se riesce a mettere un po fuoco purtroppo abbiamo i mezzi che abbiamo non rompete le scatole mi dispiace dolore a catena gioca infligito danni una creatura nemica se questi danni distruggono infligito danni a ogni vicino ottima ottimo dolore a catena imp scheggia di sangue dopo che una creatura ha raccolto il suo controllore deve sacrificarla questa carta è bellissima questa carta ha un dittino lì dove gli imp sono terrificanti comunque sembrano vabbè tezmal bello l'illusione raccolto scegli una casa e il tuo avversario non può usarla come casa attiva ottimo bello stric stric illusione mentre stric si trova su un fianco il tuo avversario rifornisce la mano di una carta in meno durante il passo pesca carta aia è la succubese con illusione questa bello schuler conosciamo già sfruttare le debolezze gioco ottieni un amber per ogni creatura nemica danneggiata fantastica questa carta se sai usarla viene fuori una roba brutale quando si trova su un fianco riceve più non forza provocazione il gub va bene falciari deboli bello distruggere la creatura nemica più più sfigata illusione dopo che una creatura ha raccolto stordisci imp di amber dopo che una creatura ha raccolto stordisci però anche le tue e ne ho tre per ottimo con illusione bene direi che malfoi è terminato andiamo a vedere adesso l'altro il secondo mazzo tutte e due in in un evento solo perché purtroppo ragazzuoli abbiamo dei problemi di tempisti che abbiamo già registrato ma è andato tutto a puttene come sempre abbiamo qualche cappella di sorta che io non sono tipo io che non sono buono di aprire ste casse di ho rotto tutto ok scusate tornati tornati normale ok olaf che il agile i nomi di queste cose bene mettiamo qua questa giriamo a partiamo già con teliga ma che conosciamo già anche il gru è un peloso peloso conosciamo già ne pete lo conosciamo già sono sono dappertutto sono infligge un danno ogni creatura nemica su un fianco infligge un danno ogni creatura nemica che non si trova su un fianco salvare il branco la conosciamo già ricrescita come vediamo già sciame di marmotte sciame di scoglia questi sono scogliattoli però riceve più no forza per ogni amber nella tua riserva ottimo può essere molto molto utile guardiano del boschetto alla fine del torno mette un segnalino più no forza su ogni creatura vicina ma ne ho due io cosa cazzo dici bellissimo lucilla alfa rimette nella tua mano una carta da piede ottimissima luna piena per due orca questo mazzo puzza di esagerazione salta il tuo passo forgia chiave ritevi tutti gli ember spesi dal tuo versario quando forgi le chiavi azione sacrifica il pungi puoi sacrificarlo ovviamente però tipo te ne possono chiavare anche un botto distrazione letale gioco scegli una creatura per il resto del turno ogni volta che questa creatura subisce danni subisce due danni aggiuntivi bello mi piace gioco se possiedi più un bel avversario quest'ultimo scarta una carta casuale e tu peschi una carta bellissima questa infliggi un danno ogni creatura bellissima anche perché va in combo tantissimo aspettate un attimo che col pungiglione ce n'hai di più per forza perché non puoi forgiare quindi ottimo umbra lo conosciamo truffa truffa l'abbiamo vista anche prima alfa omega gioco ruba 3 perfetta alfa gioco infliggi due danni a una creatura nemica se quella creatura è distrutta da questo effetto archivia il colpo a tradimento anche questo abbiamo visto quello che ruba i rolex ruba uno setto avversario a più di 7 ruba 2 sacrifica una creatura per infliggere 6 danni a una creatura cosa dici una vita per una vita ma che cazzo dici fa malissimo e ne ho due e questa invece va in combo questo mazzo è fortissimo questo mazzo va questa cosa va in combo con ma anche questa qui non trovo non trovo quella che vabbè quella che dice che aggiungo due danni è fortissimo questo mazzo se il tuo avversario possiede più una perdita pesca una carta se tu ne possiedi più ne archivi una abbiamo anche quella per sacrificare ottimo questo mazzo è osceno è fortissimo ditemi cosa ne pensate nei commenti è davvero sbragato vabbè il forziere di guerra lo conosciamo la bomba stridente la conosciamo piccola peste illusione le creature devono combattere quando sono usate se possibile lui è veramente un dito nel culo sia per te che per l'altro solo che tu hai brobnar quindi te ne sbatti apertamente i coglioni lancia fiamme con una chitarra quanto pare infligge un danno con propagazione 1 a una creatura buono se il tuo avversario possiede questo lo conosciamo già tremitolo conosciamo già nella mischia gioco per il resto del turno una creatura brobnar amica ottiene combattimento ripristina questa creatura in poche parole puoi attaccare a rotta di collo finchè non muore gruk gigante combattimento il tuo avversario perde 1 ottimo polvere polverentola che nome del cazzo scusa raccolto se una creatura amica sta distrutta in questo turno ottieni 1 bellissimo alfa questo primo sangue first blood ricordiamoci lol league of laesend alfa devi giocarla per il primo gioca infelito danni per ogni creatura brobnar amica puoi suddividere questi danni tra un qualsiasi numero di creatore ci piace battitore speriamo che non batti in autostrada perché fa paura gioco con battimento raccotto rimetti una creatura gigante amica nella tua mano potrebbe essere questo mozza bello baracciola barattolo cosa vuol dire baracciola mi scusi pre combattimento infelito danni a ogni vicino della creatura contro cui baracciola combate la questa questo è fortissimo questo è veramente tosto è un mazzo che mi piace moltissimo comunque ragazzi non riuscirevo ad andare in live su Twitch oggi siamo molto 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 tristi però noi vi salutiamo qua spero che il video vi sia piaciuto questi due mazzi sono veramente soprattutto olaf olaf agile mi piace veramente molto diteci cosa ne pensate nei commenti noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti